che oggi è stato insomma sbandierato in tutto il nord est, messaggi sono arrivati veramente, siamo stati inondati, investiti da messaggi di complimenti da Jesolo a Caorle, a Trieste, a Pordenone, Carlino, Lignano, insomma il Triveneto ha parlato effettivamente di noi, va soprattutto a voi, a voi che ci guardate da casa e con affetto e ci seguite e continuate a seguirci da 40 anni, nonostante l'offerta radio televisiva sia importante, perché ormai le televisioni nascono come i porcini in questa stagione, poi c'è chi vive e c'è chi muore, noi siamo ancora qua e già dicevano Vasco Rossi in un celebre pezzo, grazie a voi e ovviamente anche grazie a tutti gli sponsor che continuano a darci fiducia in questo grande cammino, io auguro al Cavaliere Mario Ruoso, a Telepordenone altri 40 anni come questi. Allora parliamo della situazione invece di Beirut, perché ci sono i riflettori ormai e puntati, do il ben ritrovato a Guglielmo Cevolin, presidente di storia Limes Club, Pordenone Udine Venezia, professore ben ritrovato. Grazie direttore. Riflettori e puntati, cosa sta succedendo dopo quella terribile esplosione che è costata la vita a decine di persone? Beh diciamo che Libano è un po' in crisi, era già in crisi dal punto di vista economico, era in crisi dal punto di vista politico con un sistema istituzionale molto complicato che tiene conto delle confessioni religiose, un sistema proporzionale con anche assassini di premier e guerre con Israele, quindi è successo di tutto negli ultimi diciamo 15 anni in Libano. In più c'è la distruzione dell'Iraq e della Siria, della Siria soprattutto, in più quindi c'è anche una immigrazione di profughi, diciamo che sono milioni, su una popolazione di pochi milioni di abitanti, in più la crisi economica devastante con la valuta che si è depreciata in pochi mesi dell'80-90%, quindi una crisi devastante con adesso in più questa esplosione che ha causato circa 300 mila senza tetto, oltre i morti e i feriti e i dispersi e quindi una situazione che ha fatto sì che oggi, proprio in queste ore, da una parte i militari in pensione che subiscono ovviamente il depreciamento della valuta, come tutta la cittadinanza, ma in pratica tutte le componenti religiose, perché è stato visto il manichino nelle proteste impiccato sia del capo di Hezbollah sia il presidente libanese invece, perché la struttura del sistema politico libanese prevede, per capire un po' la complessità, un presidente della Repubblica in un sistema presidenziale che è cristiano, marronita, poi un capo del governo che normalmente è sunnita e poi un presidente invece del Parlamento che è sciita, quindi tutte queste componenti comunque sono scese in piazza a protestare, compresi i militari in pensione, l'esercito è un elemento di stabilizzazione in Libano e hanno tentato di entrare in Parlamento, sono stati respinti dalla polizia che ha sparato proiettili, anche proiettili veri sembra, e non solo di gomma, e dopodiché una rappresentanza è riuscita invece a occupare il Ministero degli Esteri e si stanno chiedendo ovviamente le dimissioni del governo, perché? Perché in questa situazione già estremamente critica l'esplosione ha fatto toccare ancora più con mano come questo governo libanese sia completamente incapace di gestire la situazione, per esempio lasciando un deposito di nitrato di ammonio che ovviamente è anche un fertilizzante, ma serve anche a fare gli esplosivi utilizzati, che erano stati sequestrati da una nave, ma per 6-7 anni lasciati in questo deposito con 2.700 tonnellate, cioè quando i terroristi o i militanti, come volete chiamarli, di Hezbollah, vengono trovati in giro per il mondo, spesso vengono trovati con qualche tonnellata, una o due tonnellate di nitrato di ammonio proprio per fare le bombe. E come si fa a lasciare in porto una cosa di questo tipo? È evidente che un governo che da anni, non solo questo, è in una situazione di impasse, ovviamente c'è un forte ruolo di Hezbollah che praticamente è un soggetto molto anche per certi versi da un lato stabilizzante, da un altro lato invece ostativo, destabilizzante, e diciamo che è stato un soggetto anche che però si è occupato della popolazione quando il governo ancora non riusciva a fare niente, quindi ci sono tanti elementi veramente di complessità, però ecco il rischio qual è? Che dopo la Siria anche il Libano esploda, è una situazione molto interessante, quella del Libano molto anche interessante per noi che siamo lì con il comandante del Col alla missione Unifil, con 1.100 militari italiani, siamo riconosciuti alla guida di questa missione che serve per sostanzialmente, come volendo si potrebbe vedere stasera. A partire dalle 21 poi ci sarà uno speciale proprio sul Libano. Sul Libano, che viene spiegata soprattutto la missione Unifil, la missione Unifil dove noi italiani siamo chiamati a tracciare il confine nella Blue Zone tra Israele e il Libano, dove è stata tracciata una linea di confine, ma sulla carta poi bisogna poi darne concretezza, e qui c'è la capacità della missione Unifil di pacificare, sia per ogni tanto c'è qualche sconfinamento sia terrestre da una parte che aereo dall'altra, e quindi noi come italiani siamo in prima linea e abbiamo un ruolo. Un ruolo grande però l'ha avuto subito Macron, che è andato 24 ore dopo il primo, e infatti è stato anche, come dire, si è capito la criticità della situazione del governo, perché? Perché Macron praticamente è stato zannato, quasi fosse lui il presidente del Libano. Ah beh, insomma. Ma chi lo sa. Prossimi appuntamenti, professore? Prossimi appuntamenti, ecco che abbiamo il Master in Intelligence, lanciato dall'Università di Udine in primo e secondo livello, con la possibilità da tutta Italia di fruire di questo grande servizio, di questa grande attività formativa dell'Università di Udine, che è straordinaria, perché si occupa di intelligence, sia con riferimento al diritto e con riferimento alla geopolitica, ma soprattutto con le nuove tecnologie, con il discovery fake news, con l'analisi sui big data, con la cyber security, e con tante cose che servono sia alle istituzioni pubbliche, militari, pensiamo, forze dell'ordine, ma anche alle imprese private. E anche qui ci saranno dei collegamenti con la televisione, perché abbiamo mandato già tre, quattro lezioni del corso, con diversi generali, con diversi esponenti, diciamo, studiosi dell'intelligence e così, proprio in diretta a voi, ve l'abbiamo mandato in prima linea. Speriamo che questa collaborazione possa sicuramente proseguire anche in futuro, grazie, come sempre, anche di questo ponte, tra Telepordenone e Guglielmo e Cevolin, con in mezzo proprio alle iniziative di Storia, Limes, le università e il mondo anche d'arme, e altre cose con l'esercito in prima linea. Grazie allora, professore, ci vediamo nei prossimi appuntamenti, Guglielmo Cevolin, presidente di Storia, Limes Club, Pordenone, Udine, Venezia. Grazie a voi. Grazie a voi.